La Scuola Internazionale di Archeologia alla Biagiola offre un'opportunità unica di studiare un sito pluristratificato, di mettere in pratica tutto ciò che in teoria viene studiato all'Università vivendo tutte le diverse sfaccettature del lavoro dell'archeologo, dagli aspetti più conosciuti sul campo all'applicazione delle nuove tecnologie fino alle buone pratiche di tutela e alla valorizzazione dei siti archeologici. Tutto questo nella splendida cornice dell'Alta Maremma Toscana con le sue ricchezze, i suoi straordinari punti di interesse sia archeologici sia paesaggistici. Grazie per la visione!